Pensiero della sera su Max Allegri. Max ha un po' rivoluzionato la maniera di pensare rispetto ad altri allenatori su una cosa in particolare. Gli altri dividevano i 90 minuti per 11 giocatori, lui li divideva già su 14. Cioè ha capito che dal settantesimo in avanti c'è un altro calcio, c'è un'altra partita. E lui con i tre cambi ha sempre modificato anche la storia dei suoi risultati. Adesso ha cinque cambi a disposizione. Molti parlano di Scudetto, la Juve che torna, sicuramente la Juve è fortissima nello Scudetto, ma io credo fortemente che i cinque cambi per Max siano una strada per l'Europa più che per l'Italia. Ci sarà una Juve diversa in Europa.